segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te guarda mi sento con le spalle al muro perché io come noto sono un elettore di sinistra l'ho sempre dichiarato non lo nascondo e l'idea che il presidente del consiglio a cui rivolgo i miei auguri per la sua influenza ci abbia inchiodato la settimana prima di natale a parlare di pandoro e di presepi e che noi abbiamo abboccato come scemi perché tra l'altro nella cosa che hai fatto appena vedere lei ha tirato due frecciate una l'ha tirata contro il pandoro è la storia famosa che è un'altra contro saviano saviano non se l'è filato nessuno tranne laura boldrini e tommaso montanari mi alzo in piedi parlando di loro saviano un po perché gli scrittori italiani sono pigri gli intellettuali sono rivali sono gelosi ma ti pare a te come mai non abbiamo fatto una questione su saviano e l'abbiamo fatta sul pandoro riflettici noi passiamo abbiamo passato tutto il duemila e ventidue di 23 scusami di scemenza in scemenza due al ritmo di due tre la settimana dedicando la nostra attenzione i nostri editoriali i nostri talk show c'è veramente è raro che in una situazione almeno in francia discutono di macron che ha votato con la penna i migranti di cose così ma ti pare a te che io lo faccio con foga lo faccio con foga aderisco però diciamo la verità 100 a 0 a vantaggio della meloni nei confronti nostri perché c'è interessante quello che il direttore mie ci dice tu dice la penna è in grado anche di dettare l'agenda che poi noi seguiamo insomma è in grado assolutamente tutto l'anno noi abbiamo parlato di del suo compagno di suo cognato di alcune gaff alcune saranno state fondamentali nella storia italia passeranno nei libri storia però diciamo il 99,9 per cento non avranno nessuna menzione libri storia e un anno importante un anno intero e se facciamo cinque anni così io non so come ci troveremo scusami non voglio parlo da analista e tifoso ma adesso il tifoso lascia per lascia la parte dell'analista allora faccio un sermone se la sinistra per un anno passa di pandora adesso c'è la befana non so che altro ci sarà non so se sia di destra o di sinistra ma è capace che ci inchioda pure sulla befana perché ha un piglio così deciso noi abbocchiamo e facciamo un bel dibattito sulla befana sul capodanno sicuro e poi sulla befana ma che non lo so ecco però questa caro